Pino Quartullo, bentornato a Civitavecchia e soprattutto ben ritrovato con un progetto molto importante. Questa è una cosa che sia a Roma che a Civitavecchia mi è stata richiesta da alcune persone di fare una scuola di teatro, di fare un lavoro per gli attori e allora ho colto questa occasione molto volentieri. Quest'anno, siccome non farò teatro perché ho altri progetti, ho approfittato per dedicarmi a dei giovani, ma anche non giovani, che vogliono avvicinarsi al lavoro dell'attore e al tempo stesso mi farà piacere tornare qua per una serie di motivi. Allora, questo workshop si svolgerà al Forte Michelangelo, è partito appunto da poco ed è suddiviso in due classi e come hai appena detto tu non è indirizzato solo a chi vuole intraprendere il mestiere dell'attore. Al Forte Michelangelo perché il comandante Vincenzo Leone si è mostrato molto disponibile a accogliere questo progetto, ha valutato questa iniziativa interessante e quindi abbiamo a disposizione questo spazio bellissimo, ma anche in altre location, a seconda dei casi, a seconda delle nostre esigenze, ci appoggeremo anche per esempio al Ballet Center di Maria Luisa Rubulotta che è mia collaboratrice e appunto nonché allieva attrice di questo corso e quindi magari poi troveremo anche all'interno del porto altri spazi, altri luoghi perché poi alla fine di questo lavoro mi piacerebbe di nuovo fare qualcosa da presentare al pubblico in una forma di spettacolo che dovremmo un po' inventare, dovrò vedere chi fa parte di questo gruppo, quali età, quali capacità, soprattutto le tipologie fisiche in base agli allievi, attori con cui lavorerò, metterò appunto una sorta di spettacolo, saggio, performance. Diamo delle info per coloro che sono appunto interessati a partecipare a questo workshop. Allora, sì, in linea di massima sarà il martedì, però stiamo verificando sempre sulle esigenze di chi partecipa, l'orario anche lo stiamo mettendo a punto e si può scrivere a un indirizzo mail che è workshopquartullocivitavecchia.com oppure al Ballet Center sicuramente c'è sempre qualcuno a cui rivolgersi per avere informazioni e potersi iscrivere, portare il proprio curriculum, delle foto perché un po' di selezione andrà fatta, perché se capita il pazzo o la pazza bisognerà cercare di evitare che contaminino il gruppo.